Quando è che abbiamo gli occhi? I buldovi li hanno già aperti tutti eh? Gogo uno e gli altri sono in fase Ah ma fai tre giorni prima Questo ce li ha aperti Eh? Questo qua ce li ha aperti E' un maschio o una femmina? Quello lì è maschio E' il caso qui siedere E' un ascolio E' un ascolio E' un ascolio Un ascolio E' un ascolio Grazie a tutti.